Ciao a tutti! Io sono Elena e lei è la mia nonna e oggi io interpreto Moana. E lei? Nonna Tala. Tala, giusto. Nonna Tala. È una giornata bellissima per me. Sono contentiva. Mi sento una signorina oggi perché sto interpretando, sto diventando una persona. Infatti, infatti, gli avevo detto che postando la foto con me avrebbe fatto successo e che aveva un sacco di fan. Beh, per quello che io sono qui perché sapevo che facevo strada io. Ma, ah, lo sapevi che facevi strada? E allora adesso dobbiamo salutare tutti i tuoi fan che ti hanno fatto tantissimi complimenti e li ringratti. Allora ringrazio tutti i miei fan. Guardali là. I miei fan, vi ringrazio dei commenti ricevuti e vi dico se volete venirmi a trovare. Io sono qui a Goro. Ma firmi anche gli autografi, volendo. Eh sì, sì. È necessario. Beh, sicuro. Oggi ho raggiunto i mille follower sulla mia pagina e quindi come sorpresa e ringraziamento per tutti quelli che ci hanno seguito. Visto che tanti ci avete chiesto di realizzare il tatuaggio della razza di nonna Tala, tu cosa hai risposto? Penso di averlo doppiato adesso. Ah, vuoi radioppiare, vuoi fare la doppietta? Sì, vabbè. Quindi puntiamo ai 4.000 like. Ma sì. Perché prima mi ha fatto 2.000. Eh? Con il tatuaggio vogliamo arrivare a quanti? Ma certo, a quanti. A quanti erano? 2.000. Allora 4.000. Visto che tutti quanti avete richiesto se potevo farle il tatuaggio sulla schiena della razza, io gli ho chiesto e per te va bene? Vuoi farlo? Ma spensa, se non lo voglio, era quello che aspettavo. Quindi a 80 anni tu ti fai fare il tatuaggio della Disney. Ma sì, ma tatuami tutta. Tutta? Tutta la persona. Allora adesso facciamo il tatuaggio sulla schiena. Va bene. E niente, ci vediamo alla fine del video per i ringraziamenti. Ecco. E magari se poi ci saranno delle domande possiamo fare anche un secondo video di risposta. Eh, certo. Va bene. Sì, sì, sì. Salutiamo. Ci trucchiamo adesso. Ciao. 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 Noi vi salutiamo, ci siamo divertite, ci siamo truccate, io sono bella l'ottista, giusto, è vero, e il suo spirito dobbiamo avere, tu sei bella tutti i giorni, ma sicuro, ma sicuro, e pensa che tanti hai detto anche che hai dei bellissimi occhi e che non hai rughe, a 80 arrivare con le tue rughe, sono poche, diciamo ma bisogna essere contenti e felici, Sì, io diventerò come te nella da vecchia Eh sì, a chi ci omoglierai allora a me? A te, con il mio fisico a te No, perché te sei brava, spero che tu abbia una lunga vita Eh sì Baci a tutti e grazie Quando morirò mi rincarnerò in una razza, altrimenti ho sbagliato il tatuaggio A te, con il mio fisico a te